Siracusa. La polizia denuncia tre persone per furto aggravato in supermercato. Tre persone, due uomini e una donna, sono state denunciate per furto. Il bilancio dell'attività di controllo è compiuto dai poliziotti del commissariato di Ortigia della costruzione di Siracusa che ha consentito di individuare i responsabili di alcuni recenti episodi di furto avvenuti a danno di un supermercato di Via Elorina. Il furto è stato commesso lo scorso 5 febbraio. Gli agenti, mediante le analisi delle immagini di videosorveglianza, sono riusciti a risalire ai tre autori che hanno agito con destrezza. Le tre persone sono state dunque denunciate.